Movida troppo rumorosa, la stretta del comune scatta dalla mezzanotte di oggi. I nuovi divieti riguardano dieci vie del centro storico a Pescara Vecchia. L'ordinanza rimarrà in vigore fino al 2 aprile. Nel dettaglio la musica sarà consentita fino alle 24 nei locali, diciamo così, normali. Nessuna limitazione di orario invece per quelli con licenza da ballo, a patto in entrambi i casi che porte e finestre siano chiuse. Inoltre per evitare gli schiamazzi di chi in strada fa le ore piccole con il bicchiere in mano e vietato il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche da mezzanotte alle 7. L'ordinanza del comune è stata presa dopo i rilevamenti dell'Arta, che ha accertato superamenti dei rumori oltre i limiti fino a tardi. Arta che continuerà l'opera di monitoraggio. Le associazioni di categoria che pure hanno partecipato alle riunioni con il comune arricciano il naso e chiedono provvedimenti solo nei confronti dei locali che sbagliano. Sentiamo Luciano Di Lorito, CNA e Marina Dolci, confesercenti. Siamo con l'amministrazione laddove faccia dei controlli mirati e riprima quelle condotte che non rispondono alle norme, come assolutamente è illegale ma è anche immorale somministrare alcolici ai minori. Quindi qui siamo netti, però dobbiamo essere chiari e franchi, soprattutto in questo periodo, soprattutto dai periodi precedenti, e che le imprese possono e debbono lavorare. Noi non siamo favorevoli a questa ordinanza, però siamo sicuramente nell'ordine di idee che le regole si debbano rispettare. I nostri associati come confesercenti li rispettano, ci sono due o tre locali che invece per loro abitudine non lo stanno facendo. Quindi battete molto sui controlli. Sì, è un'ordinanza che fortunatamente è a tempo perché con l'Arta siamo rimasti d'accordo che faranno degli altri controlli random, quindi non sappiamo in quali giorni, proprio perché non si può lavorare con delle restrizioni così importanti. Adesso soprattutto che andiamo verso il caldo, verso la primavera e l'estate. Staremo a vedere, sicuramente le regole ci saranno, ci vuole un pochino più di educazione anche da parte dei cittadini, dei ragazzi, ma è la moda di adesso che i ragazzi, anche giovani, anche minorenni, purtroppo escono tardi la notte, la sera. E quindi noi ci auguriamo comunque di un controllo da parte delle forze dell'ordine, da parte dell'esercente e vi dico anche questo, che ci sono dieci locali di questa zona movida che si sono organizzati fra di loro per pagare una security serale che controlla i documenti al momento dell'ingresso del locale. Nell'ordinanza credo che non si parli di tavolini. Qual è la situazione attuale? No, di tavolini non è contemplato rispetto a questa misura. è chiaro che ricordiamo a tutti coloro uguali intendono esporre e mettere i tavolini all'esterno, questa deve essere fatta con previa autorizzazione al Comune.